Con il capo sanguinante con indosso solo boxer e una maglietta ha chiesto aiuto rifugiandosi in una tabaccheria del centro. Siamo a Manduria in via Marchesi Imperiali e sono circa le 5 del mattino di venerdì 25 ottobre. Un professionista della città messapica sarebbe stato aggredito da presunti malviventi alle prime luci dell'alba mentre dormiva nella sua abitazione. Spaventato, infreddolito e ferito al capo sarebbe fuggito con i pochi indumenti lanciandosi pare dalla finestra di casa per poi raggiungere via Marchesi Imperiali in piazza Garibaldi e rifugiandosi nella tabaccheria del centro. L'uomo è stato soccorso e medicato dal personale del 118 giunto sul posto e ascoltato dai carabinieri di Manduria contattati dai sanitari. Sarebbe stato aggredito dai ladri secondo il racconto del manduriano ma le dinamiche dell'episodio restano poco chiare. Non è ancora certo infatti se le ferite riportate siano dovute alla presunta caduta dalla finestra o a una colluttazione. Interpellato, il tabaccaio ha preferito non rilasciare dichiarazioni limitandosi a dire è un brutto periodo per Manduria. Sul caso indaga il comando dei carabinieri della città messapica importanti saranno le immagini di videosorveglianza del rivenditore per far luce sulla vicenda.